Sarà la Banca Agricola Popolare di Ragusa a gestire il servizio di tesoreria del comune di Santa Croce Camerina sino al 2020. La firma della convenzione ieri pomeriggio a Palazzo di Città tra il ragioniere capo Bruno Busacca in rappresentanza dell'ente e un rappresentante dell'istituto di credito Angelo Mezzasalma alla presenza del segretario comunale e responsabile del settore contratti. Ammonta 3,95% la percentuale che sarà corrisposta per l'espletamento del servizio più il tasso Euribor. Finalmente afferma il sindaco Franca Iurato è stato sottoscritto a una convenzione la cui definizione ci vedeva impegnati dallo scorso mese di gennaio. Adesso si potrà provvedere con maggiore celerità ad assolvere gli impegni finanziari dell'ente sia nei confronti dei fornitori sia con riferimento alle spese correnti.